Accidenti! Lasciami andare, Taddao, ti prego! No, non posso lasciarti andare, sei troppo piccolo, Terriu! Figurati, anche se sono ancora un bambino, io, io sono il principe del clan Ryujin! Ma da dove sono spuntate quelle corna? Sono diventato adulto, finalmente, così potrò usare tutti i miei poteri. Sei diventato adulto? Avere le corna non significa essere adulti. Tu non puoi capire, adesso sono un adulto a tutti gli effetti. Ma sì, vediamo. Che cosa? Se tu saresti un adulto, ci voleva imbrogliare, ok? Sto arrivando, Shoryuki! Torna subito qui! È troppo pericoloso per lui!